Mariana Perez, un esordio fantastico qui a Seveso, tantissima gente, raccontaci com'è stata la partita per te, raccontaci la tua partita. È la prima volta che gioco qui, in casa, e mi impressionò, molta gente, bellissimo, bellissimo, molto bello. Tu sei grintosa, ti fai rispettare in campo? È molti anni che io gioco con hombres, quindi sono acostumbrata. E come ti trovi qui a Cantù? Bien, bien, è un equippo molto forte e sono molto contenta di essere qui. L'italiano lo sta imparando, quali parole hai imparato fino ad adesso? No, molto poco, molto poco, molto poco. Io sono innamorati di stare qua. Loro comunque sono una grande squadra, la partita di Supercoppa è stato veramente un evento sporadico, sapevamo che la loro forza nei giocatori, nei singoli, hanno tirato magari più voglia, più grinta, ma siamo rimasti concentrati, siamo rimasti sull'obiettivo che volevamo portarci a casa questa vittoria. Ci siamo riusciti con un po' di fatica, ma ci si sta. C'è stato un tifoso che è venuto a dirci, mamma mia, che attacco di cuore che abbiamo avuto e giustamente il cuore va allenato, quindi dobbiamo abituarci anche a soffrire queste partite. Ci sarà durante tutto il campionato, visto che molte squadre si sono attrezzate, partite toste. Dobbiamo essere lucidi, oggi l'abbiamo fatto, quindi siamo contenti così e adesso lavoriamo per la prossima. Giordi Ruiz ha detto che il loro campionato non è con voi, è con altre squadre per fare l'Eurolega. Tu che ne dici? No, 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 sicuramente loro sono una grande squadra per cercare di arrivare fino in fondo. Normale che magari essendo in un ambiente nuovo, in un gruppo nuovo, può dire questo, però ci aspettiamo comunque altre partite tirate così e ce li aspettiamo probabilmente verso la fine, poi il campionato è lungo e quindi, come dicevo, molte squadre si sono attrezzate per dare il massimo, però sono un'ottima squadra, quindi sicuramente ci rincontreremo.